Ciao a tutti carissimi amici di YouTube, quel magico mondo dove tutto può accadere e non accade mai niente. Allora che ne pensate del Corso Manga Vol. 3? Spero che vi piaccia, io ce la sto mettendo tutta per poter creare dei video divertenti, coinvolgenti. A volte ci riesco, a volte no, non fa nulla, voi continuate a seguirmi e fidatevi di Marionetta Matta. A bando alle ciance o ciance alle bando, in questo video voglio farvi vedere quali sono gli acquisti del mese, i vari manga che Marionetta Matta ha comprato, insomma, e che sta seguendo. E direi di cominciare subito con il primo che è Blame, chi conosce Blame? Alzi la mano chi conosce Blame? Un manga di Tsutomu Nihei, un grande secondo me, fa dei disegni stupendi. So tutte bozze praticamente, è tutto uno scarabocchio, però è uno scarabocchio d'arte. Questa chiaramente è una ristampa, anzi è una ristampa della ristampa, perché credo che ne abbiano fatte tra i quattro. Il trafiletto ci dice, in un lontano futuro, uomini e macchine vivono sottoterra fra megastrutture percorse da angusti e interminabili corridoi. Bellissimi i paesaggi che fa lui proprio ti fanno venire voglia di morire. Un mondo ostile che Killi, il personaggio della storia che non ha nulla a che vedere con l'igiene intima femminile, esplora in cerca di individui con il gene per i terminali di rete. Bene, siamo al numero 6, io ancora non ho capito che è sto gene per i terminali di rete e lo scoprirò, spero. E poi passiamo al volume numero 11 di Akame Gakill, questo manga che mi sta piacendo sempre di più. È molto particolare Akame Gakill, questo manga molto simile per certi versi alle prime serie del Trono di Spade. Alzi la mano chi conosce il Trono di Spade e chi lo sta seguendo. Scrivetemi in un commento qui sotto qual è il personaggio che vi piace di più. Comunque in Akame Gakill non fa in tempo ad affezionarti a un personaggio che poi ti muore così, d'un colpo. Ed è forse questa la bellezza e la forza del manga. Il fatto che non hai mai la certezza che il protagonista potrà farcela. Insomma nulla a che vedere con i vari Dragon Ball, Naruto, Fairy Tail, One Piece dove tutti sembra che muoiono, muoiono, muoiono ma alla fine non muore mai nessuno. Ormai il lettore l'ha capito. Gli unici che muoiono sono quegli sfigati di personaggi secondari che insomma a me ne frega niente a nessuno. E il terzo manga non lo conosco per niente, si intitola Danmaki e sono sincero l'ho comprato per le tette della ragazza. E anche per il nome che mi fa venire in mente i ristoranti giapponesi, gli Uramaki, questi deliziosi, squisiti, gnam gnam giapponesi. Insomma la storia di questo manga non la conosco, però a grandi linee leggendo dietro mi dà l'idea che sia molto simile a Sword Art Online. Ditemi in un commento qui sotto se lo conoscete e se invece ho preso una toppa pazzesca. E passiamo alla Torre Fantasma, questo è un altro manga che sto seguendo con piacere. È un thriller psicologico molto molto particolare, è pieno di scene provocanti, ecci. Vi dico solo che i personaggi principali sono un maschio e una femmina, lui si traveste da ragazza e lei si traveste da ragazza, insomma per farvi capire. Tutta la storia gira intorno a questa Torre Fantasma dove si dice ci sia un assassino, uno spietato assassino. Ma anche un tesoro inestimabile, protetto da mille pericoli, trappole, pareti che ti schiacciano, insomma un casino. Il punto di forza della Torre Fantasma è senz'altro il disegno, un disegno molto particolare, per certi versi fa proprio paura. Infatti i volti dei personaggi sono tutti molto tirati, c'è sempre una luce che spara addosso a loro e quindi comunque sia fa vedere queste ombre che... Mamma mia, danno l'idea proprio di essere una cosa brutta, brutta a vedersi. Però è una particolarità che secondo me fa il suo sporco lavoro in un manga del genere. E l'ultimo acquisto del mese è questo, ovvero Monster Hunter Orage. O Orage, o Orage, non lo so, non so come si dice, non so neanche che significa questa parola ma non me ne può fregar di meno. Voi sapete che la serie Monster Hunter, esattamente come la serie Black Rock Shooter, è una serie che si svende. Al migliore offerente, un po' come accade insomma nelle aste. E chi si è giudicato questa volta il compito di portare avanti Monster Hunter, niente meno che Hiro Mashima, il creatore di Fairy Tail. E c'è molto di Hiro Mashima qua dentro, eh ragazzi. Infatti non vi nego che quando ho cominciato a leggere questo manga ci sono rimasto un po' male, perché all'inizio veramente sembrava di leggere una puntata di Fairy Tail. I personaggi principali, Shiki e Irie, sono praticamente Natsu e Elsa. Ma sono identici, cambiano solo i vestiti e il colore dei capelli. Per il resto il carattere è proprio quello. E poi ci sono le Gilde, le Gilde Caciarone, tutti i personaggi insomma che abbiamo sempre visto e apprezzato nel manga Fairy Tail. Vengono riproposti, diciamo, aggiornati, cambiati nel volto. Però insomma vengono riproposti anche qui, il brand è sempre quello. E questa cosa all'inizio mi ha dato un po' fastidio. Però devo dire che continuando a leggere il manga sono rimasto piacevolmente colpito dalla trama, che è molto bella, molto particolare. Chiaramente Mashima gioca molto sul concetto di amicizia. E anche qui succede la stessa cosa con Irie o Irie, non lo so come si dice, che ha avuto dei problemi con i suoi compagni precedenti e quindi vuole viaggiare da sola. E invece il Natsu de No Altri, ovvero Shiki, che crede fermamente, fortemente al concetto di amicizia. E cerca di fare di tutto per poterla aiutare, inglobare in questa compagnia. E poi ci sono chiaramente i mostri giganteschi e tutto il resto. Dovrebbero essere due volumetti, perché nel manga c'è scritto che a febbraio uscirà l'ultimo volume. Quindi dovrebbe essere una cosa molto veloce, bello, come piace a me. Le storie lunghe che si protraggono per millenni e che non hai più lo spazio per mettere i manga... No, no, non ce la posso fare. Bene ragazzi, questi erano gli acquisti del mese. Ditemi in un commento qui sotto se conoscete questi manga e soprattutto datemi dei vostri consigli. Ditemi che cosa avete comprato voi in questo mese. Facciamo questo scambio interculturale. E noi ci vediamo venerdì per la quarta lezione del Corso Manga. In questa lezione torniamo agli albori, un po' quello che succedeva nel Corso Manga volume 1, perché creeremo un personaggio insieme e vi spiegherò insomma alcuni particolari interessanti per poter creare appunto personaggi. In particolare il volto a tre quarti. Vi do questa piccola anticipazione. Bene, ho detto veramente tutto. Vi saluto. Iscrivetevi al canale, commentate, mettete un like, condividete il video e ci vediamo prossimamente. Un bacio a tutti i matti del mondo. Mua! Grazie a tutti.